ciao a tutti siamo raffreddati e natale questo video video di bottega verde ma vi volevamo far vedere il nostro albero di natale bottega verde la scusa quello lì è levato quello lì è il nostro albero anni di natale che è bello grande è alto due metri e dieci metri e mezzo per tre lì ci sono le rose line che si accendono vabbè qua ci sono tutti i regali e poi c'è l'amicino ciao maggio ciao va bene poi ci sono tutti i regali la maggio parte sono finti questo è finto questo è finto quello la metà sono finto comunque il nostro primo natale in questa casa l'abbiamo voluto far bene qua c'è il centro tavola molto bello e nulla questo qua è il nostro salotto con il nostro bellissimo albero di natale qua c'è il cuscino natalizio un altro cuscino natalizio e niente sono gli otto mesi la panza la panza cresce ciao serena ciao quindi ci siamo nulla adesso vi facciamo vedere quello che abbiamo preso che ho preso la bottega verda perché c'è no un sacco di sconti e di cose in omaggio e non si possono non comprare non comprare non si possono non prendere perché se sono in omaggio non si comprano vero giustissimo giusto quindi adesso vediamo apriamo il paccone che è e questo qui è quello grosso quanto grande sto buco va bene c'è la gioia di chi è nooo è il matale guarda la carta ce l'ha più quella carta che è cosa avevi preso la carta abbiamo preso ciao a tutti siamo tornati la miseria allora come al solito c'era un così c'è un limite di spesa no e beh certo ecco che era di 20 euro e io ne ho spesi i 20 23 24 allora e quindi dovevi spendere più di 20 euro io ne ho spesi i 24 e boh tutti felici e contenti adesso con questi 24 euro vi faccio vedere che cosa abbiamo abbiamo otto preso i di allora questo qua è arrivato allora ovvio allora che quello lo pensavo per guardare grazia eh vabbè lo dico io questo è omaggio via questo qua è in omaggio che c'è la renina con le coni e che la copre ma fai il regalo di questo uno tieni la renna una tieni buono che mi sa comunque questo qua è un playboy che noi ce l'abbiamo lì dietro che quello lì e la renna invece adesso ve la faccio vedere la renna è non lo so si vede si vedrà è quella se si vede quella è riabbracciata se non si vede è una renna a pupaccio è uguale a questa eh si se tu vai a Bottega Verde e compri qualcosa te la dai un omaggio adesso che è Natale ed è molto carino cioè il trade quello è bello grande copre tutto c'è tutto il divano una parte di divano ed è anche cardino comunque è molto carino io ne ho praticato ero andato in negozio e di me l'hanno dato ho visto ho visto che me l'avrebbero dato anche al al coso online allora ho pensato anche quello magari serve magari no se voglia regalarlo a qualcuno è qua bellissimo via 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 poi questi qua li ho comprati sono due ammorbidenti davvero? si l'avevamo finito allora uno è alla violetta e l'altro è alla vaniglia nera c'era uno solo c'era uno solo e questi qua sono costati ammorbidenti tre euro e 49 tre euro e 49 questi l'uno che vabbè cosa adoro la pratica voglio sentire l'odore sanasi senti? eh speriamo che si mantiene anche nel nel si perché aveva finito la vaniglia nera io dovevo raggiungere i 20 euro allora ho detto va sentiamoli giusto giusto buuuuuh madonna la realtà è penetrante va bene sono freddi questi e questi qua sono quelli che ho pagato poi ah che carina questa qua è una saponetta all'orio di mandorle dolci che anche questo potevi scegliere se prenderla o non prenderla è in omaggio questa? no la saponetta sarà costato un euro qualcosa 2 euro e 49 2 euro e 49 2 euro e 49 questa saponetta qua però è carina dai noi secondo me non la usiamo la daremo a qualcuno la regaliamo la regaliamo comunque è molto carina ho preso questa perché mi piacciono le mandorle certo niente però poi una cosa molto interessante ah qua questo potevo è questo che come l'altra volta che abbiamo dovuto scegliere tra l'asciugacapelli e altre cose anche questa volta abbiamo dovuto scegliere cioè potevamo scegliere e io oh ti ho ricordato da voglia non si dico le parolacce non è non dite le parolacce e io ho preso questa oh che bella oh che carina una bilancia per la cucina è carinissimo capirai se c'è la pila si ce l'ha la devi solo staccarla oh va che carina facciamo subito il test quanto pesa questa 150 grammi aspetta come si fa qua 161 c'è la carta è proprio precisissima c'è la carta c'è beh comunque è molto carina guardate quanto è carina questa è costata 3 euro e 99 3 euro e 99 e c'è scritto che non lo mangi? no visto che ha rovinato la mia e vedi è comprata l'asciugale ma si spegne? si devi tenere lasciare ecco schiaccia ok si spegna poi c'è tutto sto pacchettone per due cose questo qua è in omaggio un mascara si che è questo qua l'ho preso anche quando sono andata al negozio quindi c'ho due mascare in omaggio mascara volume si chiamano della bottega verde mascara a tutto volume tutto volume effetto ciglia finte si cioè se vi serve un mascara una coperta una renna pupazzo andate sul sito di bottega verde e ci sono tutte queste cose in omaggio se non vi serve non c'è andate se non mi serve niente vabbè quindi questo mascare in omaggio poi ho preso questi due deodoranti per gli armadi comunque belli davvero? ma questo va così no? sì direi di sì perché già c'è odore credo o si apre però c'è qui il buchino per aprirsi non lo so ma dopo lo leggiamo bene ma io lo metterei così già c'è odore così quindi ah questo qua che cosa ha? è questo? fresco il pulito targhe? ah no cioè tu metti la targhezza direttamente nel questo ha costato 2,49 quindi in tutto sono 4,98 coi due lì e c'ha l'odore di di fresco di fresco di fresco come se cioè come quando ho scritto c'è scritto fresco si legge niente tipo il bucato quando esce le mie unghie bellissime quando esce dalla lavatrice che sono le mie unghiette sono breve sa di bucato appena sfornato si vabbè è sempre sfornato questo si sforta ah uff un'altra cosa in omaggio è questo dopo barba per non per me perché non per lui perché non lo usa quindi lo regaleremo anche questo ma bello fare regali no? se le cose sono arrivate in omaggio eh poi questo qua l'ho comprato poi il signorino tanto carino che è lo shampoo che cosa è che oh è lo shampoo che questo qua mi sa che è quello che costa più 5,99 cazzo è uno shampoo per eh rischio caduta per la prevenzione della caduta dei capelli hai capito oh ti lamenti sempre io ho pensato a te eh freddine freddine è stata carina sono importante sì grazie poi ultima cosa anche questo in omaggio che di queste ne abbiamo pieno questo cazzo crema mani coccoloso con burro di cacao e miele vabbè tutte queste bustine salute grazie anche queste qua erano in omaggio ovviamente che ti facevano scegliere quale gusto volevi ho letto cioccolato e ho preso subito questo così così quindi qua è vuoto uno scatolone gigante per ah sono questo? per tre cose tre cose tutta casa cioè io non lo so allora alla fine abbiamo preso i mascheri in omaggio le bustine queste qua che è boh crema in omaggio questo qua è che è il dopo barba è il basamo dopo barba in omaggio lo shampoo a 5 euro e 99 la saponetta a 2 euro e 49 che è molto carino che è molto carino anche questo 2 e 49 molto bello questi qua che sono profumatori per gli armadi gli armorbidenti più bella che è la regina che abbraccia il play dai però ce n'era di roba si si scatta però ehm vorrei dire una cosa non mi ricordo più Chiara sto pensando che pensi poi tu lo tagli e poi vai avanti insomma ah no voglio dire che da scegliere insieme a questa c'erano anche un set di asciugamani era bellissimo perchè non l'hai preso? perchè non sappiamo dove metterli c'era l'armadio c'è è pieno l'armadio eh vabbè no davvero c'è l'armadio pieno non ci stanno già quelli che ci sono però erano bellissimi perchè erano viola e rosa no viola e fucsia ed erano ce n'erano due grandi due normali per la faccia credo due per il cu il bidet il cu e quattro piccolini che non so cosa servono quelli piccoli le serviette sono quelli si le serviette ed erano molto belli quelli costavano sui sei euro non mi sembra già stanotti adesso qua quelli costavano sui sei euro poi c'era anche una felpa credo poco più comunque potrebbe stare e cos'altro c'era un'altra coperta comunque non mi ricordo più se voi andate sul sito direi che ci sono ancora se vi interessa qualcosa e niente queste qua sono le cose che sono arrivate oggi da Bottega Verde e le ho prese ho lunedio martedì quindi ha fatto 19 ha fatto ha fatto presto ha fatto molto presto di arrivare meno male perché non vedevo l'ora non mi piacciono i pacchi va bene e niente quindi questo qua è la cosa che abbiamo di Bottega Verde questo qua non so se mai lo useremo al massimo regaliamo anche questo come questo qua? no questo qua ah quello della violetta questo qua non deve essere male ma sai sono concentrati questi va diluito perché se ce ne va uno perché è già concentrato come l'enor quello dai cazzo Gianluca dai cazzo va bene allora finito video finito abbiamo fatto vedere tutto buon Natale buon Natale ciao a tutti mangiate come i porci e buona vigilia se non ci vediamo prima ma non credo però mi piacerebbe fare il video di scattare i regali no quello è privato cosa hai preso qualcosa di di legale è vero scioccante è vero scioccante è vero scioccante vabbè noi il video lo facciamo dopo dopo se lo mettiamo no vediamo perché cioè il ricordo di noi che scattiamo i regali lo voglio avere le facce di me del eh eh bello no no i miei ti piacevano tutti anche i miei mh 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 perché noi siamo belle fiori i ragazzi mh 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 va bene allora vi salutiamo il video è finito per la lennesima volta l'ho detto si vede che io non vuoi proprio stacca stacca chiudi chiudi e niente ciao 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 ciao